Salve a tutti, sono Grucio226458, siamo a Modena il giovedì 7 febbraio 2013. Siamo qui in occasione del Giovedì Grasso per sentire l'annuale sprolocchio di Sandrone. Per chi non lo sapesse, Sandrone è la maschera tipica di Modena, perché siamo a Modena, una maschera della commedia e l'arte, utilizzata quasi esclusivamente come burattino. A accompagnarlo ci saranno la sua famiglia, la famiglia Pavironica, sua moglie Puloni e suo figlio Sgorginguolo. Ogni anno Sandrone fa uno sprolocchio in cui parlerà di argomenti di attualità. Qua intorno è pieno di gente che si chiede cosa cavolo ci faccia un pazzo che parla da solo con una telecamera, però sembra che siamo in ritardo. Se il video verrà troppo lungo magari lo divido in più parti così non ci metto due anni a caricarlo. Ci vediamo dopo.